Dopo il pareggio di Verona il Milan perde a Torino. 8 maggio 1977 il Torino era una squadra stellare per quei tempi. La formazione allenata da Radice segna al 14esimo del secondo tempo con Graziani e al 25esimo del secondo tempo con Pulici. Questi i gol. La squadra rossonera a questo punto deve assolutamente battere il Catanzaro. Grande mobilitazione dei tifosi rossoneri per la prossima partita il 15 maggio 1977.